Buonasera a tutti, sono Minucci Cristian, sono un insegnante di matematica e adesso vi dimostrerò quanto un insegnante di matematica sia molto più noioso di un informatico. Comunque sia, io insegnavo alla scuola Fracassetti-Betti di Fermo, come voi sapete la scuola, come qualcuno forse sa anzi, la scuola Fracassetti-Betti, grazie a una legge della Gelmini, ritenuta poi incostituzionale, è stata smembrata in due ISC e istituti comprensivi. Però, quando il progetto è realizzato, è stato fatto quando questa scuola era in realtà un'entità unica. Facciamo una scommessa, provo a riassumere tutto quello che vi ha detto Andrea con una slide, raccontandovi una semplice storia. Allora, immaginate un antropologo in Africa che incontra dei bambini, il quale chiede loro di fare una gara. Mette un cesto di frutta, fa allontanare i bambini e dice, va bene, adesso chi arriva prima gode della frutta, di questo cestino di frutta. Che fanno questi bambini? Si guardano, si prendono per mano, corrono verso questo cestino ricco di frutta, si siedono e mangiano tutti insieme questa frutta. Naturalmente, l'antropologo chiede loro, ma come mai avete scelto di fare questa scelta, appunto? E loro rispondono Ubuntu, che appunto è una parola africana, dal quale poi è stato ripreso il nome del sistema operativo che gira sotto Linux, appunto, che si chiama Ubuntu e che dice, appunto, come potrebbe uno essere felice se tutti gli altri sono tristi? E quindi diciamo questo è il senso poi del software libero, della condivisione. Andiamo nello specifico. Allora, io insieme ai miei colleghi del Fermoluc abbiamo realizzato un progetto che a me mi era venuto in mente diverso tempo, che era quella di ripristinare un laboratorio informatico, ormai obsoleto, indisuso, nella mia scuola, facendo una scommessa, una semplice scommessa. Proviamo a vedere se riusciamo a inserire in una scuola secondaria di primo grado del software libero e riutilizzare, riorganizzare un laboratorio informatico da zero, fondamentalmente, a costo zero. Quindi, andiamo a vedere quali sono state, insomma, le idee che ci hanno permesso di fare tutto ciò. Allora, la prima idea che ci è venuta in mente, appunto, è il software libero. Perché software libero? Perché, appunto, innanzitutto è gratuito, quindi a costo zero, e nello stesso tempo è il libro. Cioè, noi lo possiamo utilizzare, modificare, a nostro piacimento, sulla base della nostra esperienza, ma, in realtà, sulla base anche delle nostre necessitudini. Seconda cosa, un discorso educativo. Siamo a scuola. I ragazzi non devono imparare a scaricare programmi, craccarli, quindi lavorare nella illegalità, ma devono imparare a utilizzare ciò che è condivisibile. Cioè, io prendo un programma, poi lo do anche a te, tu lo distribuisci a un altro, e via dicendo. E, naturalmente, non di meno, sono i costi. Perché voi sapete che, da diverso tempo, non è solamente la scuola o l'università, tutte le istituzioni culturali soffrono dello stesso male, cioè di finanziamenti. Nella scuola i finanziamenti sono abbastanza ridotti. Bene, andiamo a vedere lo stato della situazione. Cioè, come tutti i progetti, è giusto fare uno studio di fattibilità. Allora, prima cosa, primo problema, hardware obsoleto. Adesso vi faccio vedere dove questi computer, che noi abbiamo poi sistemato, si trovavano. Ecco, questo è uno scantinato della scuola Fra Cassetti Betti, dove noi abbiamo riciclato, mettiamoli in questi termini, dei vecchi computer abbandonati, che stavano lì, morti, inutilizzati. Adesso vi farò vedere anche un'aula, immaginatela, che abbiamo cominciato a risistemare, dove prima era ricca di computer, dove potete vedere anche i tavoli, ci sono dei fori dove passavano i cavi, che noi abbiamo ripulito, abbiamo sistemato, abbiamo ripassato anche, vedete qui ci sono delle canaline, abbiamo ripassato dei cavi, abbiamo collegato un'aula lim, abbiamo fatto un collegamento anche internet, e l'abbiamo chiamata aula lim. Andiamo avanti. Allora, quali sono le difficoltà? L'hardware? No. Il software? Tanto meno. Le vere difficoltà che noi abbiamo incontrato in tutto questo progetto è stata la resistenza al cambiamento. Andiamo nello specifico. Che significa resistenza al cambiamento? Significa che tutte quelle persone che hanno utilizzato sistemi operativi come Windows, nel momento in cui si sono trovate a utilizzare un sistema alternativo, diciamo, come Ubuntu, quindi alcuni professori, diciamo, si è cambiato l'icona dove, non so, fare il grassetto, o per stampare, ecco, si sono trovati in difficoltà. Mentre i ragazzi, a differenza degli insegnanti, erano felicissimi. Non solo perché hanno appreso un sistema operativo differente, ma nello stesso tempo anche perché era più facile da utilizzare. Quindi i ragazzi si sono trovati a loro agio. Naturalmente questo problema, che è stato poi il problema più pesante, diciamo, è stato superato facendo dei mini corsi per qualche insegnante, che era disponibile, insomma, all'apprendimento di questo nuovo sistema operativo. Andiamo a vedere il progetto. Che abbiamo utilizzato nel progetto? Abbiamo utilizzato questa release, che è la 10.04, perché sarebbe la versione del 2010, 10 indica l'anno, 04 indica il mese, perché questo progetto è stato fatto, realizzato due anni fa. Abbiamo scelto questa release non perché la preferivamo rispetto ad altre, ma in realtà perché era una LTS, quindi a lungo termine. Poi abbiamo costruito, abbiamo messo su, ah, ecco, una cosa molto simpatica. avevo ritrovato nascosto in segreteria un vecchio computer senza un alimentatore, dotato di 2 giga di memoria, un computer comunque sia messo abbastanza bene, solo che era saltato l'alimentatore, e l'avevano nascosto in un angolo di questa segreteria. Io andando a fare una domanda per un giorno di licenza, per una visita medica, scorgo questo computerino lì sull'angolo, e gli dico, ma scusate, ma quello lì? No, quello non funziona, ormai da un anno che sta lì, purtroppo non arriva il tecnico, ci sono problemi. Dico, beh, ci penso io, non vi preoccupate, lo aggiustiamo noi. Quindi è stato preso, è stato riaggiustato, è stato utilizzato come server. Qui, la cosa simpatica, è che qui potete vedere lo schermo del server che comanda altri 10 computer da remoto. Questo è un programma che si chiama E-Talc, che è un programma per la gestione di aule didattiche. È un programma open source. Fate conto che per gestire un'aula informatica con un programma appunto per il controllo remoto di altri computer, ci vogliono all'incirca, se non sbaglio, dalle 3 fino al massimo alle 5.000 euro. Questo è gratuito, totalmente gratuito. Come potete vedere, stiamo controllando lì 10 desktop di 10 computer remoti. Andiamo avanti. Questa è l'aula LIM. Come potete vedere, vabbè, questa è un iperbole equilatera con una retta. Vabbè. Stava lì durante una lezione. Questo girava ancora sotto Windows, perché il portatile con cui è collegato girava sotto Windows. L'abbiamo messo anche sotto Linux, sotto Ubuntu. E funziona benissimo. È una lavagna che funziona benissimo, senza problemi. Lavagna interattiva. Bene. Andiamo a vedere i costi. Dopo tutto questo progetto, insomma, ha durato diverso tempo, perché ci abbiamo messo circa due mesi e mezzo, tre, per realizzare il tutto, quindi per passare i cavi per la rete, per sistemare i computer, per sistemare l'aula e via dicendo. Abbiamo fatto anche un conto che abbiamo presentato poi in segreteria alla scuola, che è stato circa di 80 euro. Abbiamo speso per tutto qua, 10 computer, sistemazione dell'aula LIM, passaggio dei cavi e via dicendo, abbiamo speso più o meno 80 euro. 80 euro di materiale, perché la maggior parte poi l'abbiamo riciclato da altri computer. Ecco, infatti, io mi sono dimenticato di dirvi questo. Noi abbiamo recuperato 20 computer, di cui, alla fine, siamo riusciti, spostando qualche pezzo da una parte all'altra, siamo riusciti praticamente a costruire un'aula con 10 computer. Andiamo avanti. La realizzazione. Infatti, la realizzazione è stata abbastanza travagliata, anche perché abbiamo lavorato soprattutto di pomeriggio. quando naturalmente non c'erano gli alunni, quando naturalmente non c'erano le lezioni, e fortunatamente abbiamo trovato un preside, un dirigente scolastico, che era contento di questo progetto e ci ha appoggiato, insomma, appieno. Andiamo a vedere i risultati. Adesso vi farò vedere quello che siamo riusciti a fare. Questa è l'aula con 10 computer. Il desktop non è rotto, ma in realtà è la slide che fotografando appunto, sì, praticamente il refresh del desktop. Questo appunto è il server, il master, scusate, con il quale lavoriamo, e qui stiamo trasmettendo appunto una lezione sul desktop del computer dei ragazzi. Adesso non voglio farla troppo lunga, ma non ci siamo solamente fermati o soffermati sulla realizzazione di un'aula, ma abbiamo pensato anche un po' oltre. Abbiamo detto bene, fino a qui ci siamo arrivati. Possiamo andare oltre? Possiamo avere degli sviluppi? Possiamo ampliare questa quest'aula? Allora, innanzitutto la prima cosa che abbiamo pensato è stato questo software che è stato sviluppato Epoptes, che è un software che serve per il controllo remoto per dei computer, quindi per un'aula didattica, per l'allestimento di un'aula didattica, perché? Perché questo software in realtà abbiamo scoperto che funziona molto meglio rispetto a quello che avevamo installato. È stato sviluppato da un gruppo di ragazzi greci e abbiamo visto che qui ci sono dei problemi e non ci sono dei problemi relativi alle chiavi perché su Italk abbiamo trovato dei problemi con le chiavi sia del master che dei remoti, mentre questo funziona in maniera molto più agevole, molto più facile, gira sotto CTK, insomma, ci sono delle agevolazioni molto più accattivanti, mettiamoli in questo termine. la seconda cosa che abbiamo pensato naturalmente questa è un po' più difficile, qui veramente ci potrebbe essere la vera resistenza al cambiamento perché questo è un software che permette non solo di gestire i registri, cioè abbiamo pensato di, va bene, visto che ci siamo mettiamo un software in segreteria per la gestione dei registri, praticamente per avere i registri elettronici, quindi far sì che un genitore possa controllare se il figlio è andato a scuola, non è andato a scuola, quali voti ha, quando è stato interrogato, e questo si interfaccia con il SIS che sarebbe il database che il ministero utilizza per classificare, per contenere, per tabulare i ragazzi, e nello stesso tempo questo permette anche di fare gli scrutini online, cioè un professore, questo è naturalmente anche questo è il libro gratuito, non si paga niente qui, i professori possono da casa mettere i voti dello scrutino, poi vanno a scuola in dieci minuti appunto svolgono il lavoro che normalmente si svolge in un'ora, naturalmente dopo lì ci saranno discussioni su determinate cose, però già una parte del lavoro è fatta. Ultima cosa, Will Doss libera la lavagna, un gruppo di ragazzi informatici, tra cui c'è anche un matematico, un fisico di Trento, Bolzano, Trento, vero se non sbaglio, hanno detto, bene, la lavagna interattiva, quello che vi ho fatto vedere prima, gira sotto un programma, che è un software, che si chiama Smart, che non è, che è proprietario. Allora, loro hanno detto, bene, facciamo una cosa, rendiamo anche questo libero, quindi hanno inventato questo sistema operativo, che si carica direttamente sul computer, e permette la gestione, senza, la gestione, ma anche la modifica, del software, che ci permette di comandare, di gestire la lavagna, per una, una lezione. E, naturalmente, questo è un progetto, che è stato già presentato, la Conf SL, che sarebbe la conferenza, il software libero, in Ancona, ed è stato un successo, è stato uno dei talk, più, più importanti. Naturalmente, non è finito qui, perché attraverso anche questo software, loro hanno un dispositivo, che si utilizza sulla Wii, hanno, quindi hanno un accelerometro, dove, naturalmente, ci fanno anche degli esperimenti, e, insomma, è una cosa molto, innovativa, quindi, io spero di non avervi, annoiato, troppo, e, vi ringrazio per l'ascolto. Grazie. Grazie.